Rallegriamo la tavola con i flambi colore, carote e spinaci, un connubio perfetto. Fate cuocere le carote in padella fino a che non diventeranno morbide. Ora riducetele in purea e mettetele da parte. Rosolate gli spinaci in padella e frullateli col mini pimer. Montate gli albumi proprio così. Preparate la besciamella. Unite la purea di carote, la besciamella e il parmigiano. Ora mescolate ed aggiungete infine gli albumi montati a neve. Uniteli delicatamente per non far smontare il composto. Aggiungete agli spinaci la besciamella e il parmigiano. A questo punto incorporate gli albumi montati a neve, sempre delicatamente. Mettete nei pirottini imburrati e infarinati prima il composto di carote, dopo il composto di spinaci. Continuate così fino a che non terminate tutti i pirottini. Io ne ho riempiti nove. Una volta finito, mettete i pirottini sopra la placca del forno, aggiungete dell'acqua ed infornate. Dalla cucina del Chihuahua per oggi abbiamo finito. Auguro a tutti buon appetito! Grazie.